Assessore Sabrina Messico, Mare di Pagine rappresenta un appuntamento culturale nel panorama della stagione dianese? Sì, un appuntamento che rispecchia tutta la volontà dell'amministrazione di portare in piazza la cultura, ma in piazza in senso fisico, nel senso che gli appuntamenti saranno comunque organizzati alle ore 21, nelle serate che avrete comunque a disposizione illustrate nella nostra locandina, sul nostro sito internet, con autori di fama nazionale, ma anche con delle voci locali che sono riusciuti veramente ad avere un successo a livello nazionale. Questa è la parte che un po' mi piace di più, perché comunque portare alla luce dei nomi che sono riusciti con il loro lavoro, con le loro opere, a varcare i confini territoriali, per noi è veramente un orgoglio. Quindi avremo una rassegna che spazierà con autori che vanno da Senardi, a Cappi, ma avremo anche Fulvio D'Amele, avremo anche Laura Moretti, dei nomi che rispecchiano un po' la nostra territorialità.